Gianluca Pollace, in casa bianco-rossa non sei una novità, ci sei stato anche l'anno scorso, si riparte per una nuova stagione, perché la scelta di dire ancora sì ai colori bianco-rossi? Per me è sempre stato un grande orgoglio giocare qui, è una piazza importante, l'anno scorso mi sono trovato bene, quest'anno ho deciso di rispondere un'altra volta a questo progetto, grazie alla società, grazie a tutto quello che è stato anche l'anno scorso, che è finito come è finito, potevamo fare ancora tanto e ho deciso comunque di continuare il percorso con la Vastese. Potevate fare ancora tanto, ma quando vi siete fermati a marzo, la Vastese era nel momento migliore di forma, ricordiamo le quattro vittorie in cinque giornate con l'arrivo di Mister Silva, c'è ancora lui dopo la breve parentesi a Govino, come lo ha ritrovato l'allenatore? Benissimo, noi siamo contenti del suo ritrovamento, perché comunque l'anno scorso ci siamo interrotti con queste quattro vittorie di fila e stavamo facendo qualcosa di straordinario e quindi sono contento di proseguire questo cammino. Domenica si parte, iniziano a starci in palio i tre punti, andrete a Rieti, in terra naziali ci saranno parecchie trasferte, per te che sei di Roma un motivo in più per dare ancora tanto, la Vastese andrà a Rieti per fare quale risultato? Il nostro obiettivo è sempre quello, vincere, lo spirito c'è, i risultati poi avvengono sempre attraverso gli allenamenti, attraverso il gruppo e ci siamo, siamo un ottimo gruppo, un'ottima squadra, ben costruita e andremo lì per vincere comunque.